Buongiorno, oggi abbiamo parlato di prove equipollenti nella scuola secondaria di secondo grado e in particolare parliamo di quelle prove che vengono somministrate a studenti con disabilità per i quali è stato definito un percorso curriculare personalizzato, cioè un percorso curriculare che consente a questi studenti di conseguire il diploma conclusivo della scuola secondaria di secondo grado. Questo argomento è importantissimo proprio perché garantisce e consente agli studenti con disabilità di fruire pienamente del diritto allo studio, così come stabilito dall'articolo 34 della nostra Costituzione.